ho deciso di fare un plan tour delle piante adesso siamo a metà maggio di come stanno crescendo e insomma di far vedere come sono belle ecco qua qui ho messo queste piante sopra una piccola scrivania non è tanto grande che avevo ho creato dei piani per alzare quelli dietro e quindi iniziamo da qua c'è il fiudendrosquamiferum guardate che per la foglia nuova che sta mettendo e che colore acceso a e anche come sta mettendo come ha messo le foglie veramente in avanti quando mi colico sul letto queste fronde che sembra di essere sopra sopra la foresta veramente bello e qui e quello fa vedere questo che c'è tantissimo il filo giusebueno guarda che foglia questo ancora crescendo una foglia nuova è veramente gigantesca sarà 35 centimetri di lunghezza anche questa è una foglia nuova che ha messo quest'anno ecco tutta questa parte da qui a qui è cresciuta nel giro di due mesi poi qui dietro abbiamo il filo dendro renauxi che ho fatto che ho sistemato in un vaso lungo perché strisciante questa è un'archidea che leggono mi ricordo è un dendro ci andrò in cilum lo divisa una mette qua sono ancora i fiori secchi e questi profumano l'opera perché fumo di rigurite sono buonissimi però penso che anche le foglie di per sé sono veramente carinissime anche senza la senza fiori con questa base che va che varia sul rosa vabbè questo è un filo dendroscadence che ho da anni e guarda la scala cascata che fa veramente quasi fino a terra e vicino c'è un fotos poi questa è un'altra orchidea che ho preso anche per le foglie bellissime e questa farà i fiori una maxillaria botanics farà il profumo di cocco l'intensa profumo di cocco però anche se non mi fa insomma è bellissima anche così con le foglie ultimamente sto prendendo le orchidee per la bellezza delle foglie più che dei fiori e qui c'è un'altra orchidea che avevo preso per il profumo questa foglia un po set ma la lascio sono perché comunque ho fatto la divisione in bar che stanno benissimo questo non mi ricordo più il nome è il singonium omnac ha un nome stranissimo l'ho pagato abbastanza caro perché adesso qui non si vedeva per il rosso acceso devo dire che da quando l'ho trapiantato si è fermato non è più partito dalla crescita però sta bene qui c'è chiudendo che il serlinum vabbè cosa dire le foglie sono splendide magiche in mezzo alle altre credono subito un elegante sogno probabilmente smettendo un fiore anche questo l'ho travasato invasato qui ha fatto una foglia che ha partito perché ho avuto un attacco di tripidi e quindi alcune foglie sono state un po mangiucchiate adesso sono in uscita da bellal guardate questa questa qui anche malai questo è malai non mi ricordavo più il nome più dentro ma lei e sta crescendo anche bella per questo colore color verde mela giallo è stupendo questo contrasto è questa botta di colore di verde invece tantissimo e qui avevo intenzione di creare praticamente un muro verde ci sono alcune piante coprote piccolissime e stanno crescendo partiamo di qua questa è una versione albina di una maranta guardate la sua parte bianca con di cento rosa si vede meglio questo dirò un po di foglie set e purtroppo sta crescendo totalmente albina e quindi è molto fragile la messa qua un po distante dalla luce questo è un filo d'endro birkin rosa ma sinceramente non so non la capisco si è fermata anche nella crescita questo cliente dentro di giganteum va legato da quando l'ho presa messo questa nuova foglia e ne sta spuntando un'altra qua speriamo che vada tutto bene qua abbiamo un altro singolio un piccolo singolio confetti che sta crescendo questo primo dentro micro stitum quello che fa le foglie come di cuore sono molto belle questa è una scenda psus marmo ma legata fare foglie bianche guarda e bianche molto molto belle ma questo nel più dentro brazil scadens fanno questa sorta di cascata questo singolio marmo pariegato in pentino che ho fatto che c'è la pianta madre che sta continuando a vegetare e ricadere qui in mezzo c'è un altro singolio queste palle foglie un po tur rosa arricciate questa è la mostela sito il peccana e la pianta molto carina che ho pagato poco ma che sta crescendo molto e devo dire che ha una sua eleganza mi piace molto e se mi piace tantissimo qui sopra c'è una mostra raguva legata sta partendo con i nuovi o una nuova foglia e poi ci sono varie varietà di insomma non mi ricordo più il nome in questo momento qui c'è un'altra dietro varietà di orchidee eccolo qua questo è un filodendro red qualcosa non mi ricordo più il nome comunque abbastanza particolare perché fa queste foglie con il gambo rosso che sembrano delle frecce questo è finendo le corvi folio ma la particolarità di avere il bordo delle foglie rosse e non si trova molto in commercio questo è un artichetto che ha creato lì è un po timido infatti si gira indietro vedete comunque cresce carino bellino qua un filodendro che forse ha partito un po il 6 96 86 che sembra numero di telefono mettiamo un po più di uno qua un po per l'ombra ma che non si perda e niente ho preso con la foglia è una foglia è ormai sono due o tre mesi che così questo è il paraíso verde ultime foglie che messe non sono screziate ma una tinta unita però so che più luce fanno e più anno appunto hanno le foglie che si colorano questo è un oggetto che sta buttando bello queste fiorendo gioepi che mi piaceva per per la foglia questo singogno scrabble ed anche se non mi hanno venduto per scambere ma oppure che sia data specie e questo è un pinnato ma legato anche questo mi piace molto vedere questi questi buchini che hanno che non le foglie anche la piccolina ma che c'era questo è una scenda già da variegato anche queste foglie molto carina questo è un filodendro mandaiano questa è l'ultima foglia che ha messo molto carino questo è un piccolissimo florida ghost questo è un filodendro dark red dark ho preso tutti i piccolini quindi stanno crescendo sono mettendo le foglie linee questo è il burle massa appasito un po rinvato la spedizione tutto questo sono le foglie le nuove che ha messo da quando arrivato e ci sono dei nuovi getti metà le foglie le più grosse questo è il singogno moito una specie di singogno questo è lo sportifilio via daimon questo è il filodendro ed era variegato se mettono verso e breve fuori le variegate questo filodendro domestico un variegato poi ancora piccolina ma carinissima che possiamo arrivata molto piccola la cultura idroponica quindi ci vuole un po quando le piante alcune per ripartire questo è un filodendro abatto rense bellezza e la foglia sul retro che è bordeaux però sta facendo lentamente anche lui ma sta crescendo qui sono alcuni filodendro un po particolari classine room questo questa foglia un po rigonfio questo è il grad grazioni vi veramente sono le ho presi su ebay sinceramente sono più più curiosi che c'è questo assomiglia molto quello di sotto realtà come come foglia anche lei ma questa nervatura centrale e poi la dieta c'è una rapido fora africana qui un filodendro narro qui un piccolo pink lady che ho trovato in un grande bicchiere perché ancora piccolino sta crescendo ma ci sono altre questa qua la pianta bellissima mi sfugge il nome e quella delle nastrine ma la varietà arancione con cui una calda varietà quasi bordoro su scuro qui sono forti e stellata al momento anche lei non sta crescendo tantissimo anzi così niente ma sono una pianta grassa e così qui c'è un filodendro bar rosano a queste foglie particolari questo vabbè un fotos che danno sempre la loro soddisfazione nella loro semplicità qui c'è un po di cose c'è un un fico poi costringolatore si chiama questo è un singogno doveva essere va legato oro ma in realtà è bianco una drachena un black black tranthus carina c'è la sua non so come se vuole verrà una fucsia che piace tantissimo sono piante generose che costano pochissimo una rapido for a questa varia rapido for a variegata questa è la più fuori marmo ma pagate 50 euro non è ancora partita e ho paura che non partirà fio dentro mi cansa qui altre piantine che non sopra il mobiletto qui c'è il rasparagus e poi ci sono le piante che alcuni piccoli che stanno crescendo questo è un squamiferum dove essere con qualche variegatura qua vedete c'è anche una legatura però non lo so magari questo è un filodendron sembro un gold l'ho preso perché mi piaceva per il giallo pensavo che anche questo sarò erano piuttosto un gol ma no alle foglie diverse questa aveva regalata ma ho ancora capito che cosa assomiglia a questa ma le foglie un po diversa e al momento è quasi tutto ci sono delle piantine più piccole dietro mi devono arrivare delle altre insomma però alla fine l'impatto è carino carino vi ringrazio alla prossima